Il premio speciale Miglior Sillo J. Invernacolo canta Miano Lucca di Antonio Buda e rappresentato dall'editore Marco Marchese di Ritorno Ancora Vitti. Investire nella poesia invernacolo è veramente un atto coraggioso perché comunque diciamo che la poesia almeno è sempre rinchia e per pochi è sematosa. Il vernacolo forse riesce ad ottenere un pubblico maggiore proprio perché il vernacolo comunque attira e poi si ritorna sempre indietro perché nella poesia vernacolare andiamo comunque a scoprire vecchi detti. Il vernacolo poi è specifico di un determinato luogo, non è il pialetto che magari comprende una località più basse ma il vernacolo è specifico di quello. Investire in Gandamino Lucca è stata veramente un'ottima scelta per un editore. Beh è un investimento nel futuro ma soprattutto è un investimento di recupero di una cultura che ha una tradizione orale più che altro. Sì, per cui una cultura che rischia di perdersi. Soprattutto le nuove generazioni parlano sempre di meno il dialetto. Un librario mi ha ripreso tempo fa mi ha detto che non si dice dialetto, non si deve essere politicamente corretti in lingua regionale. Io chiedo a chi è più professionista, si può continuare ad utilizzare l'alternale del dialetto? Sì, a me piace tantissimo. A me pure, il dialetto, il vernacolo diciamo perché è proprio il territorio. Se noi non recuperiamo attraverso questi documenti scritti tutta questa cultura rischia di disperdersi perché purtroppo le nuove generazioni parlano sempre di meno il dialetto e di conseguenza è una vera e propria cultura, sono delle vere e proprie lingue locali che differiscono alcune volte da un chilometro all'altro. Per esempio il dialetto san biasino di questo libro rispetto al dialetto di Castrese già nella stessa città, nel sederme, ha delle profonde differenze. Io mi scuso per essere incompetente, nel senso che sono venuto qui due volte, ma purtroppo per una combinazione gli autori oggi erano... Sì, me l'hanno detto, lui si rinnovano in internet. Comunque leggero la motivazione che leggero nella logica, le congegniamo in ferro. Spero che l'editore comunque si porta a casa tutti questi preghi. Complimenti a tutti. Cantami ero locali. In una rima adeguata e coinvolgente soprietà espressiva, l'opera poetica di Antonio Cuda è un affresco di tradizioni, personaggi mitici, mestieri, valori, sentimenti in cui la calapresità, verso dopo verso, si arricchisce di nuovi colori come un fiore sgocciato in una luminescente primavera. La motivazione del professor Erulcano. Grazie. 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 Grazie.